Da mezzanotte alle 5 di domani mattina, sabato 11 maggio, gran parte di Montesilvano, città Sant'Angelo e Silvi rimarrà senza luce per urgenti e straordinari lavori annunciati da Enel da giorni. Salvo imprevisti, il blackout dovrebbe essere circoscritto a queste 5 ore notturne. Per chi dovesse trovarsi a circolare in auto o a piedi nella stragrande maggioranza delle vie dei tre comuni, si troverà a percorrere quartieri completamente al buio, quindi attenzione. Le forze dell'ordine fanno sapere comunque che intensificheranno pattugliamenti e controlli del territorio di Montesilvano, città Sant'Angelo e Silvi. Annalisa Fumo, assessore comunale di Montesilvano. Nella distribuzione, a seguito della necessità di effettuare un intervento sui loro impianti di alta tensione, hanno deciso di interrompere la corrente nei comuni di Montesilvano e i comuni limitrofi per dare la possibilità di lavorare. Questo significa che questa notte, dalle ore 12, quindi da mezzanotte fino alle 5 di domattina, non ci sarà, non verrà erogata corrente in tutte le vie che sono state, peraltro, pubblicate sia sui media che anche sui social. Per cui, diciamo, la cosa principale è fare attenzione in quelle ore ad utilizzare tutti i mezzi elettrici, tra cui soprattutto gli ascensori. Per quanto riguarda le strutture sanitarie, è l'Enel stessa che si preoccupa di fornire generatori di corrente per garantire la continuità del servizio. E dopo il blackout a Montesilvano, città Sant'Angelo e Silvi, tra domenica e lunedì si spegnerà, sì, la primavera con il ritorno dell'inverno. Forti nubi fragili lungo tutta la costa abruzzese e neve al di sopra dei mille metri. Oggi tavolo tecnico in comune a Montesilvano. Tre presenti la Polizia Municipale con il tenente Nicola Casale. Per domenica, come Polizia Municipale, abbiamo raddoppiato le pattuglie. Comunque siamo anche pronti per lunedì, perché pare che l'onda di maltempo si sposti a lunedì. Diciamo che si parla di piagge copiose. Assolutamente sì, però le ultime previsioni che abbiamo visto siamo passati da eventuali, mi pare, 15-16 mm a 10-11 mm. Quindi è sceso notevolmente. I tecnici mi dicono che i nuovi impianti che sono stati fatti lungo il mare sono già funzionanti. Quindi probabilmente questa volta riusciremo a contenere i disagi per la popolazione.